buongiorno amici di vivere la montagna oggi siamo partiti dal passo stauranza siamo indoromiti poco sopra il rifugio città di fiume abbiamo preso una traccia di sentiero che ci dovrebbe portare al adesso non so se lo dico correttamente al col della puina dal colla della puina siamo scesi abbiamo ripreso la strada passato le forcelle ed ora 458 al sentiero verso maiga prendera il pelmo e qui siamo arrivati a maiga prendera 2148 un po' 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 un Grazie a tutti